in sezione adesso siamo tutti insieme ci divertiamo c'è chi gioca col trenino e chi spinge il passeggino chi una torre costruisce chi gli incastri preferisce la maestra a dirla tutta dice è ora della frutta forza dai riordiniamo tutti i giochi riponiamo ora andiamo pian pianino a mangiare lo spuntino chissà cosa ci sarà c'è una gran curiosità mela pera mandarino cosa andrà dentro al pancino ci sediamo nell'attesa e scopriamo la sorpresa non c'è trucco non c'è inganno festeggiamo un compleanno su una torta di stelline ci sono già le candeline sono pronte da soffiare forza dai non esitare se ti serve un aiutino ecco pronto il tuo vicino che le spegni insieme a te e cantiamo tanti auguri a te ora è l'ora di mangiare gli occhi iniziano a brillare ad ognuno la sua fetta la gustiamo senza fretta come bello al mattino quando arriva lo spuntino che sia frutta che sia torta alla fine poco importa quel che conta veramente e condividere allegramente sempre buono e genuino viva viva lo spuntino